Stiamo lavorando col ministro e con il presidente della regione Marche per trovare la persona più adeguata proprio anche nell'ottica di spendere bene le risorse che arriveranno. Il nuovo presidente dell'autorità portuale deve garantire quell'equilibrio che fino ad oggi è mancato su tutto il territorio. Mentre i due presidenti di regione Marche Abruzzo, Acquaroli e Marsilio, tentano una mediazione sulla figura del nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale che sovraintende ai porti marchigiani di Ancona, Pesaro e San Benedetto e a quegli abruzzesi di Pescara e Ortona, il clima viene surriscaldato dalle parole del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli che dalle colonne del Corriere dell'Adriatico ha parlato di manuale Cencelli per la spartizione delle portrone e degli incarichi e di mire abruzzesi sull'autorità portuale. A stretto giro arriva la risposta del sindaco di Pescara Carlo Masci che ricorda come, in questi anni, i porti abruzzesi abbiano faticato a crescere ed anche ad effettuare la regolare manutenzione anche per le difficoltà e le lungaggini incontrate con l'autorità di gestione. Non posso che sottolineare il fatto che l'autorità di sistema è un'autorità che comprende non soltanto la regione Marche o il porto di Ancona ma anche la regione Abruzzo con i porti che ha e che purtroppo è stata sempre considerata la cenerentola, tant'è che il porto di Pescara oramai da circa dieci anni è inutilizzabile, i nostri pescherecci sono voluti ad andare fuori da Pescara ad Ortona perché non riescono a rientrare nel nostro porto, abbiamo oramai dal 2014 i fanghi prelevati dal fiume con il dragaggio che fanno brutta mostra di fronte al porto turistico e non riusciamo a farli togliere dall'autorità che deve farlo, quindi c'è una situazione sicuramente di trascuratezza. Il porto di Pescara a breve dovrebbe cambiare aspetto con circa 51 milioni di euro di interventi in cantiere. L'autorità di sistema, dice Masci, deve mostrare più attenzione verso gli scagli abruzzesi con una visione complessiva di tutto il sistema del medio adriatico. E' un tema di concorrenza tra i vari porti? Ma il tema di concorrenza intanto credo che non esista perché nessuno vuole disconoscere il ruolo di Ancona e del porto di Ancona che è un porto che ha una tradizione, una storia, una forza incredibile rispetto agli altri porti ma questo non vuol dire che gli altri porti non possano crescere in maniera adeguata per le necessità dei rapporti con l'altra sponda perché sicuramente c'è possibilità per tutti i porti di lavorare se sono porti che sono messi in grado di lavorare. Masci poi lancia la proposta di una sede dell'autorità anche a Pescara. Abbiamo delle difficoltà di rapporti purtroppo con l'autorità di sistema ad Ancona tant'è che io rivendico la necessità di avere una sede di staccata a Pescara perché i balneatori, i pescatori devono muoversi, devono andare ad Ancona quando potrebbero fare tutto a Pescara senza avere problemi particolari. Grazie a tutti.